ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video probabilmente è il primo video sul mio canale che in realtà non volevo fare però poi pensandoci su penso che sia giusto farlo sia perché ho condiviso tutti gli aspetti positivi e belli della mia vita e quindi c'è anche l'altra parte della medaglia ma soprattutto penso sia giusto per me per aiutarmi a mettere un punto e ripartire andare avanti senza quindi mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non sia successo niente allora per i più fedeli al canale come avete visto non esce un video da 20 giorni e appunto adesso vi sto per spiegare perché questo sarà l'ultimo video in questa casa perché praticamente io e chiara ci siamo lasciati 10 15 giorni fa in realtà non per motivi gravi non ci siamo mai mancati di rispetto anzi ma diciamo che vivevamo dei momenti molto belli ma anche molto brutti molto di frequente quindi era un altalena abbiamo provato in tanti modi a sistemare la cosa insieme però evidentemente non siamo riusciti e probabilmente non era questo il momento giusto non lo so fatto sta che appunto se due persone devono stare insieme devono stare meglio insieme rispetto che appunto da sole quindi sì siamo arrivati a questa conclusione insieme più o meno ecco quindi io nei prossimi giorni lascerò questa casa ne sto cercando una possibilmente con un garage per portarmi la palestra ma già è difficile trovare un appartamento adesso anche perché non mi interessa che sia grande però almeno che abbia il garage per mettere due cose e la palestra appunto un minimo non mi interessa portarla tutta ma è essenziale non ho assolutamente intenzione di abbandonare il canale anzi però adesso è proprio un momento in cui non ci sono tanto con la testa cioè non ho la vista molto chiara non so se mi spiego però sono un po' confuso devo ritrovare un equilibrio diciamo e questo penso sia il primo passo fare il video successivamente ci sarà appunto da trovare da risistemarmi quando mi sarò risistemato lì penso che riuscirò a centrarmi e a prendere in mano la situazione come si deve e ripartire meglio di prima perché appunto non voglio buttare via tutto questo lavoro e ci tengo veramente un sacco al canale anzi volevo prendere anche un altro tutto un sacco di cose e però nella vita succede anche questo e quindi basta è ora di affrontarle e di prendere in mano la situazione penso di aver detto tutto grazie per chi ha sempre supportato il canale grazie per chi ha sempre guardato i miei video volentieri portate pazienza che voglio tornare presto il primo possibile però non voglio fare video se non me la sento e già fare questo è stato parecchio difficile per cui ecco dai portate pazienza e ci vediamo presto ciao